Ecco l'entrata in campo, gara di campionato regionale categoria Juniors, Aquilotti-Sansalvo-Virtus-Castelfrentano. Abbiamo una squadra molto giovane oggi, mentre gli avversari hanno anche molti fuori quota, quindi una squadra più stagionata. Adesso c'è il saluto al pubblico. Vi volete fare una foto? No, abbiamo preso di là. Ok, ce lo facciamo in casa una foto dopo. In bocca al lupo? Eh sì, l'ho ripreso, dopo lo rimetto nuovo. E dietro i 4-5 borracce che pure erano. Le borracce proprio, quello ci dovrebbe essere un blueback. Io sono il primo figlio, la perate di nucazione.